Professore, una domanda che mi sta realmente a cuore, proprio per esperienza personale. Quando una donna, cioè a che età una donna deve fare la mammografia, la prima mammografia? Perché le dico, a me è capitato, nello specifico, di volerla fare tipo a 25 anni, mi hanno detto no, non gliela faccio. È giovane, quindi è bene non fare la mammografia, perché ha una mammella tipicamente giovanile, e quindi un seno denso, diciamo noi, e quindi un seno che è difficile all'interpretazione mammografica. E allora dai 25 ai 40 anni noi consigliamo una ecografia annualmente, perché l'ecografia anche oggi, gli ultrasuoni ci danno delle risposte molto buone, e accompagnare l'ecografia sempre da una visita medica, una visita specialistica da eseguire ogni anno, e a partire dai 40 anni all'esame clinico, alla ecografia, aggiungere annualmente, dai 40 anni in su, vita naturale durante, una mammografia. Io credo che se l'impegno da parte nostra sarà corale nella lotta al cancro, noi riusciremo anche a essere sollevati da questa mortificazione che abbiamo, perché lo scorso anno abbiamo registrato il 55% circa di guaribilità dal cancro. Però potremmo, e quindi il bicchiere è già mezzo pieno, però potremmo arrivare all'80% di guaribilità dal cancro oggi, se mettessimo in atto tutti i sistemi di prevenzione a nostra disposizione. Quindi in pochissime battute, riepilogando, che cosa deve fare una donna per prevenire il tumore al seno? Io consiglio sempre di autopalparsi, e quindi di eseguire questo esame mensilmente, a partire dai 16, 17, 18 anni, per acquisire una certa confidenza con il proprio corpo, con il proprio seno e conoscere bene le proprie mammelle. Questo indurrà la donna anche a sottoporsi poi dei controlli clinici. L'esame clinico ogni anno, insieme all'ecografia, annualmente, a partire dai 25 anni, vita natural durante, all'esame clinico e alla ecografia, aggiungere la mammografia a partire dai 40 anni. Professore, qual è l'andamento dei tumori in Italia, sia nell'uomo che nella donna, ovviamente? Il tumore più frequente, per quanto riguarda l'uomo, è rappresentato dal tumore al polmone. Segue il tumore del colon retto, cioè a livello intestinale, e poi quello della prostata. C'è da dire però che il tumore della prostata è in ascesa, ma questo è legato al fatto che è aumentata l'età media della vita dell'uomo, e quindi ha maggiori possibilità di sviluppare questo tumore. Ma tutti e tre i tumori potrebbero essere evitati. Quello al polmone, per esempio, smettendo di fumare. Quello al colon retto, eseguendo una cronoscopia ogni 5 anni, a partire dai 50 anni. E il tumore della prostata, sempre a partire dai 50 anni, attraverso un esame del sangue, il PSA, e poi l'ecografia ed una visita specialistica. Per quanto riguarda invece le donne, il tumore più frequente è rappresentato soprattutto, purtroppo, ancora, dal tumore alla mammella. Segue il tumore del colon retto, dell'intestino, e poi il tumore del polmone. Per la prima volta il tumore al polmone occupa il terzo posto come incidenza nella donna. E questo è un tumore che tende a salire, perché la donna comincia a pagare questo prezzo, proprio in virtù di questa cattiva abitudine di fumare. I tumori dell'intestino, il colon retto, sono legati all'alimentazione. Mentre il tumore della mammella, che tende ad aumentare di anno in anno, però qui abbiamo un successo enorme, perché la mortalità si è praticamente quasi azzerata. Dico quasi azzerata perché oggi i tumori che non superino il centimetro di diametro guariscono inoltre il 90% di tutti i casi. Questo significa quindi dover implementare questa campagna di prevenzione e di diagnosi precoce per i tumori femminili. Meno male. Lei prima ha parlato di prevenzione e soprattutto di alimentazione, prevenzione alimentare. Nello specifico, che cosa bisogna mangiare? Qual è lo stile di vita che bisogna adottare, al di là dello sport che abbiamo detto? Ma cosa bisogna mangiare? Consideriamo che l'errata alimentazione è responsabile del 35% di tutti i tipi di cancro. Di qui quindi la necessità di scoprire, di riscoprire la nostra dieta, la dieta mediterranea. E quindi il maggior consumo soprattutto di frutta fresca, verdura e il consumo anche dell'olio extravergine di oliva. Bene. Quindi adesso noi siamo in Puglia, la nostra terra è ricca di olivi e quindi di meravigliosi oli extravergine di oliva. Quindi mangiamo olio extravergine d'oliva. Pane e olio extravergine d'oliva. Certamente, grazie. Grazie professore, grazie. Prevenzione, buona come il pane. Ti aspettiamo dal 20 al 29 marzo nelle principali piazze d'Italia con la bontà dell'olio extravergine di oliva. Vincere i tumori si può. Scegli la prevenzione. Sostieni la Lilt.